Ben trovati in diretta dagli studi di utg.net. La Sardegna è ancora tra le regioni più colpite dalla siccità e l'area settentrionale ma anche quella del Sulcis sono quelle maggiormente in sofferenza. Gli ultimi dati rilasciati a settembre del 2017 dal distretto idrografico della Sardegna sulla situazione dei bacini idrici nell'isola sono preoccupanti, nonostante nei livelli monitorati dei vari bacini ci sia un leggero miglioramento rispetto ai valori del 2016. La gran parte dei sistemi idrici sono in stato di allerta, come potete vedere dai dati che stiamo proiettando nelle immagini, se non in un livello di vera e propria emergenza. Ad esempio il sistema del BD Ghinsu è ai minimi storici e c'è una forte criticità anche nell'area del Sulcis. Da maggio a oggi poi in particolare la situazione si è aggravata per la scarsità di piogge. Ma quali sono i rischi attuali? Ce l'ha spiegato l'amministratore unico di Enas Giovanni Sisto in una breve intervista telefonica. Sentiamo cosa ha detto. Dottor Giovanni Sisto, amministratore unico Enas, quali sono le criticità attuali? Le criticità attuali sono quelle che ci portiamo appresso purtroppo in quest'anno idrologico, quindi abbiamo delle forti criticità nella Sardegna e al nord occidentale perché il sistema tema Temo Cuga di Ghinsu è ai minimi storici e quindi abbiamo già chiuso la stagione in rigua e stiamo dedicando le risorse residui e ovviamente all'approvvigionamento idropotabile. Poi abbiamo un'altra forte criticità nell'area del Sulcis, Sulcis iglesiente in particolare anche nell'area di Iglesias, ma l'intero Sulcis direi è interessato da questo dove stiamo intervenendo con trasferimenti di risorse anche dall'area, dal bacino del Fulmendosa. Quest'anno ci soccorre il fatto che il bacino del Tirso e quello del Fulmendosa hanno buoni livelli di riempimento e anche lo stesso Liscia, quindi per capirci parliamo della gallura, hanno soddisfatto le esigenze primarie che ovviamente erano state pianificate. In quegli altri ambiti che l'ho indicato abbiamo avuto difficoltà fin dall'inizio della stagione, soprattutto ovviamente incide molto la stagione in rigua e poi adesso andiamo a intervenire in una situazione più delicata che sta prospettando in questo momento nel sistema del posale del Cedrino, quindi nella Sardegna centro-orientale dove appunto i consumi sono stati significativi e quindi oggi bisogna cercare, come dicevo prima, di usare le risorse residuale al meglio. Ecco, qual è il rischio adesso? Il problema è effettivamente il fatto che non piove da diverso tempo? Il rischio è ovviamente quello di avere risorse insufficienti per il prossimo anno, bisogna sottolineare che rispetto ad altre realtà noi abbiamo una struttura che è l'Agenzia Tredo Geografico Regionale che lavora alla pianificazione pluriennale nella gestione della risorsa e quindi normalmente quello che noi facciamo è quello di riservarci delle riserve strategiche da una nata all'altra, in questo momento il volume disponibile è circa il 46% della capacità di invaso di tutti i nostri bacini, quindi queste risorse ora in attesa delle piogge vanno gestite con grande attenzione. Ricordo che purtroppo dal 2014 abbiamo iniziato un ciclo siccitoso dove la disponibilità di risorsa si realizza a macchia di leopardo, e soprattutto si realizza tardivamente, anche quest'anno le piogge significative sono arrivate dopo febbraio, un po' come l'anno scorso, quindi ci troviamo a gestire una condizione dove obiettivamente quelli che sono i cicli ai quali siamo abituati stanno cambiando. Ecco le risorse in attesa delle piogge ovviamente vanno gestite con attenzione, queste le parole dell'amministratore Enas Giovanni Sistu, vi ringrazio per averci seguito, ai prossimi collegamenti.